Ciao amici, va gli investor! Sempre più spesso sentiamo paragonare Nvidia a Cisco Systems, l'azienda che è stata un po' il simbolo della bolla delle dot com nel 2000. Quindi in questo video cercheremo di capire quanto abbia in comune Nvidia con quello che è successo a Cisco nella bolla dot com e se questa volta sarà diverso. Allora, cerchiamo di capire perché gira questo paragone tra Nvidia e Cisco. Alla fine degli anni 90 scoppia la febbre per internet. Internet è la nuova frontiera, è l'innovazione che cambierà il mondo. Questo era il pensiero comune all'epoca e in quegli anni iniziano a nascere i primi grandi siti web come Amazon, eBay, Yahoo, eccetera. E quindi che succede? Tutte le aziende vogliono essere su internet, vogliono sfruttare questa nuova tecnologia e nascono anche tante internet companies in quegli anni. E le aziende di informatica e di telecomunicazioni vedono un periodo d'oro, una domanda incredibile per i loro prodotti. Parliamo delle aziende produttrici di apparecchiature di rete, router, server, eccetera, ma anche le aziende produttrici di computer e processori come Intel e Qualcomm. E la domanda per i prodotti di queste aziende crebbe velocemente perché erano questi i prodotti che facevano funzionare internet. Aziende come Cisco vendevano l'hardware per far funzionare internet. Proprio come oggi Nvidia vende l'hardware per far funzionare l'intelligenza artificiale, cioè le sue GPU. E tra questi fornitori di internet c'era Cisco che vide alla fine degli anni 90 le sue vendite crescere rapidamente perché aziende e privati avevano bisogno di router. Quindi vendite e utili hanno visto un momento d'oro in quegli anni e lo stesso per il prezzo in borsa dell'azione. Perché il mercato diceva siamo solo all'inizio, siamo solo all'alba di internet. Le aziende, le persone navigheranno sempre di più su internet avranno sempre più bisogno di internet quindi Cisco può solo che crescere può essere una multibagger incredibile e più le vendite e gli utili e il prezzo del titolo cresceva più la gente si convinceva che fosse così che il titolo avrebbe continuato a crescere per molti anni perché internet sarebbe cresciuto in modo esponenziale e Cisco che era il leader indiscusso nei sistemi di rete era molto più avanti della concorrenza sarebbe stato il principale beneficiario di questa rivoluzione di internet. E di conseguenza visto che le aspettative per Cisco erano che avrebbe continuato a crescere per molti anni ancora perché avrebbe cavalcato il megatrend di internet i multipli di valutazione erano spaventosamente alti. Questa tabella che vedete vi mostra le large cap dell'SP500 con un PE superiore a 100 e ne sono diverse quindi Cisco aveva raggiunto un PE di 150 circa e anche le altre big tech avevano multipli davvero esagerati rispetto al resto del mercato e Bloomberg come potete vedere dal titolo nella tabella era preoccupata perché i multipli erano troppo alti rispetto alle aspettative di crescita ad esempio dopo 5 anni a questi prezzi il PE sarebbe stato comunque ancora molto alto cioè le aspettative di crescita non erano sufficienti a coprire cosa era scontato nel prezzo come crescita dal mercato e se qualcosa deve andare storto per la legge di Murphy sicuramente lo farà e quello che è andato storto fu che ad un certo punto le aziende si accorsero che con internet non ci facevano poi così tanti soldi internet era un mercato in grande crescita ma ancora non così grande come si aspettavano tutti e quindi le aziende hanno iniziato a tagliare i budget dedicati ad internet alla crescita sul web e molte internet companies che erano nate in quegli anni in realtà vendevano servizi che non avevano ancora una domanda era troppo presto e quindi non guadagnavano niente e si finanziavano vendendo le loro azioni sopravvalutate al mercato infomo e quando il mercato si è accorto della bolla queste azioni sono diventate carta straccia e non potendosi più finanziare sui mercati queste aziende hanno iniziato a fallire uno dietro l'altra quindi le aziende in generale hanno rallentato la loro fame di prodotti come router per accedere ad internet e di conseguenza la domanda di prodotti Cisco è crollata da un anno all'altro cosa che non era assolutamente contemplata dal mercato che si aspettava invece una costante crescita a razzo di Cisco ed è stato così che il prezzo in borsa di Cisco crollò miseramente dopo che si era fatta un più 14.000% il titolo dal 92 al 2000 per poi perdere gran parte dei guadagni nel giro di un paio d'anni e il prezzo che le azioni di Cisco avevano raggiunto all'apice della bolla non sono state mai più raggiunte quindi pensate al bagno di sangue che è venuto fuori da questa bolla pertanto la prima cosa che hanno in comune Nvidia e Cisco è che Cisco aveva cavalcato la febbre di internet e Nvidia sta cavalcando quella dell'intelligenza artificiale quindi la grande domanda di prodotti per intelligenza artificiale che sono due trend che esistono chiaramente internet e le AI perché internet era un trend reale ma che era andato troppo in hype cioè la crescita di 20 anni era stata apprezzata in pochi anni Nvidia ora sta facendo numeri spaventosi perché la domanda è molto alta dei suoi prodotti i suoi chip per l'intelligenza artificiale perché tutte le aziende devono investire in AI questo è il futuro non possono rimanere indietro ma se arrivasse una crisi economica ad esempio che le costringesse a ridurre gli investimenti in intelligenza artificiale o semplicemente si accorgono che hanno speso una barca di soldi negli ultimi anni per le AI ma alla fine non ci stanno guadagnando chissà quanto perché sinceramente non so quante aziende al momento facciano davvero i soldi dall'intelligenza artificiale la domanda di GPU e Nvidia come è successo per i prodotti Cisco all'epoca potrebbe crollare da un momento all'altro e con brutte conseguenze sui fondamentali e quindi sul prezzo delle azioni che al momento non sta scontando il minimo crollo delle vendite perché un price to sales di quasi 40 ripeto price to sales non PE price to earnings le aspettative sono elevatissime e poi in comune con Cisco oltre alla grande domanda di prodotti ci sono alcuni eventi ad esempio che poco prima dello scoppio della bolla Cisco aveva superato la capitalizzazione di Microsoft diventando l'azienda più capitalizzata del mercato e la stessa cosa è successo di recente con Nvidia e sempre poco prima del crollo Cisco aveva fatto uno stock split perché i prezzi erano saliti davvero tanto e l'azienda voleva che gli investitori continuassero a comprare le azioni anche i piccoli con pochi capitali a disposizione e questa cosa l'ha fatta di recente anche Nvidia con uno stock split di 10 a 1 e forse sarà solo un caso probabilmente sì ma solo negli ultimi due giorni Nvidia ha perso quasi il 10% in borsa però se passiamo a sottolineare le differenze tra questo hype nell'intelligenza artificiale rispetto a quello di internet nel 2000 guardando i multipli le large cap tecnologiche di oggi non hanno i multipli di allora cioè forse non siamo ai livelli di FOMO che c'era nell'era del dot com dove le valutazioni erano davvero fuori scala io poi non l'ho vissuto quel periodo da investitore ma chi l'ha vissuto me l'ha raccontato e mi ha parlato di gente con zero conoscenza del mercato azionario l'imbianchino o il barbiere che si precipitavano in banca in quegli anni per comprare azioni tech mai sentite prima tipo sentivano il nome di un'azione che stava crescendo del 100% e l'unica cosa che sapevano era che era legata ad internet e questo era sufficiente per correre direttamente in banca senza nemmeno vedere cosa facesse davvero l'azienda e comprarne le azioni e spesso compravano le azioni sbagliate quelle con un nome simile ad esempio invece di pet.com bet.com questo per darvi un'idea della febbre assurda che c'era allora e non penso che oggi siamo arrivati a questi livelli quindi magari se Nvidia crolla potrebbe non farsi un crollo in stile Cisco perché non c'è la stessa febbre sul mercato di allora secondo me al limite potrebbe farsi un crollo più alla Tesla quando è scesa in poco tempo del 70% dai massimi nel 2021 e ora è comunque sotto del 50% dai quei livelli e dico potrebbe esserci qualcosa più in comune perché nel caso di Tesla si stava dando per scontato che le auto elettriche avrebbero sostituito in pochissimi anni le auto a combustione cosa che invece non è avvenuta e la market share in occidente delle EV è stagnante adesso è un mercato che sta facendo molta fatica a crescere ma nel prezzo di Tesla era scontato un mercato che sarebbe cresciuto velocemente e diventato di massa in pochi anni e forse questa è un'analogia con l'intelligenza artificiale cioè l'intelligenza artificiale forse ha ancora poche applicazioni davvero pratiche rispetto alle aspettative del mercato forse ha bisogno ancora di qualche anno in più per essere davvero qualcosa di massa come internet seconda cosa su Tesla si erano completamente trascurati i cicli economici cioè la gente non ha pensato che si parlava alla fine di auto un settore che con politiche monetarie espansive tipo con tassi a zero e quantitative easing si vendono come il pane le auto elettriche con tassi al 5% invece decisamente molto di meno e questo ha bloccato le vendite di Tesla molto di più di quanto ci si poteva aspettare e anche nel caso di Nvidia se il quadro macroeconomico dovesse peggiorare come detto prima magari l'anno prossimo arriva un bel hard landing e le aziende decidono di tagliare i budget di ridurre i costi quindi difficilmente compreranno le costosissime GPU Nvidia che costano 50-80 mila dollari terza cosa con Tesla si è trascurata la concorrenza che all'epoca era praticamente inesistente oggi in occidente a mio avviso più o meno ancora così ma in Cina invece Tesla è stata raggiunta da tanti competitor e il problema è che la Cina è di gran lunga il più grande mercato EV al mondo una cosa simile potrebbe succedere ad Nvidia ora è molto più avanti rispetto alla concorrenza ma in futuro potrebbe essere diverso e se il mercato si accorge che la distanza con i competitor si sta riducendo allora potrebbe essere disposto a pagare molto di meno per le azioni Nvidia dato che diventerebbero più rischiose quindi io non so in realtà se Nvidia possa essere una Cisco o una Tesla forse un po' più la seconda però penso che date le aspettative del mercato sulla crescita futura ad esempio gli analisti di Yahoo Finance pensano che gli utili cresceranno quasi del 50% all'anno nei prossimi 5 anni nel caso in cui la domanda dovesse rallentare e prima o poi dovrà succedere perché le aziende non possono continuare a comprare GPU come il pane il titolo avrà un ritracciamento importante il prezzo delle azioni potrebbe crollare parecchio perché questi prezzi scontano solo grande crescita e per darvi un'idea di quelle che sono anche le stime le aspettative degli investitori retail quelli come noi non degli analisti queste sono le stime di crescita per Nvidia che qualche giorno fa un membro del circolo dei value investor ha postato nel gruppo cioè la stime che l'habit possa arrivare a 218 miliardi tra 5 anni cioè quasi un 6x in 5 anni dai livelli attuali quindi in tanti prezzano la perfezione in questo titolo e se succede qualcosa alla Cisco invece un rallentamento drastico della domanda oppure un ciclo economico negativo parliamo di semiconduttori molto costosi quindi è probabilmente un business ciclico le azioni potrebbero andare a fondo ma ovviamente non sappiamo quanto durerà ancora la domanda così sostenuta per le GPU Nvidia magari siamo già nel 2000 di Cisco o invece siamo ancora nel 1998 e quindi il titolo potrebbe salire ancora parecchio arrivare anche a 300-400 dollari dai prezzi attuali o ancora di più chi lo sa ecco perché credo che anche se qualcuno fosse convinto che Nvidia sia estremamente sopravvalutata shortarla è l'ultima cosa che dovrebbe fare a mio parere comunque Nvidia è un'azienda sempre oggetto di discussioni interessanti nel nostro gruppo Discord dove ci sono membri contesi bullish e altri contesi bearish quindi se volete seguire questa vicenda di Nvidia e sentire un po' entrambe le campane vi invito ad entrare nella nostra community di investitori e per farlo vi basterà una piccola donazione su Patreon per sostenere il canale link in descrizione fatemi sapere la vostra su Nvidia se è una bolla o sa ancora diversi anni di crescita davanti a sé un like al video se vi è piaciuto e ci vediamo alla prossima ciao da Davide